Mentre il 20 luglio scadranno le graduatorie per 253 posti di operatore socio-sanitario, nelle ULS del Veneto complessivamente finora è stato contattato solo il 40% degli idonei, 1.677 su 4.197. Anzi, nelle ULS 2, 5, 6, 7 e 9, dice la CGL, meno del 30%. Assumere, assumere subito è la richiesta che una delegazione della funzione pubblica della CGL del Veneto ha portato, assieme a un presidio in Campo Santomà, a Palazzo Balbi, all'assessore alla sanità Lanzarin. Si è detto per due anni dopo il Covid che le persone non volevano più fare i concorsi, che non si trovavano le figure degli infermieri, dei medici, degli operatori socio-sanitari. In questo caso abbiamo 4.000 operatori socio-sanitari che hanno fatto il concorso, ne sono stati chiamati un 30%, nonostante un fabbisogno elevatissimo anche nelle aziende ULS della nostra regione e quindi abbiamo chiesto sostanzialmente due cose. di assumere queste persone e soprattutto di prorogare la graduatoria che scade a luglio. Perché si assume con questa lentezza? Noi sappiamo che stiamo parlando di un settore che è pesantemente sotto organi. Sì, c'è sempre un po' il solito alibi, un po' verità, che è quello del tetto di spesa del personale, cioè le aziende, noi in Veneto spendiamo 3 miliardi e 100 milioni per il personale sanitario e quindi c'è sempre questo vincolo che frena un po' le assunzioni. Diciamo che è un po' vero, un po' no, nel senso che ancora spazi assunzionali li abbiamo e quindi noi abbiamo chiesto di sfruttarli tutti per assumere questo tipo di personale. La situazione non è uguale in tutto il Veneto. Nell'ULS 1 e nell'azienda ospedaliera universitaria di Verona è stato chiamato oltre il 90% degli donne in graduatoria. Altrove invece si pattiscono carenze di organico. Fabio De Plano lavora a Treviso. Noi siamo 683 donnei e ad oggi ne sono stati chiamati solo 215 sull'ULS 2 di Treviso. Tanti colleghi mollano perché non ce la si fa più a livello sia fisico che psicologico. Irene Pistolato è di mestre ed è in attesa. Mancano pochi numeri, stiamo aspettando la chiamata che è molto a rilento, anche se c'è una grandissima richiesta di operatori infermieri e medici.